Grazie, ora onorevole Tamburano. Dobbiamo prendere atto che questo sistema che è stato sottoposto e verrà sottoposto a continue correzioni che era basato sul mercato non funziona. Non funziona perché è diventato uno strumento di speculazione finanziaria, non funziona perché lo scenario del commercio mondiale rispetto a quando è stato ideato è completamente cambiato. Sono entrati nel VTO degli attori che praticamente stanno localizzando le emissioni in luoghi dove il sistema ETS non è presente e non è accettato. Quindi si è persa la relazione tra luogo di produzione e luogo di utilizzo delle merci. Potrà sorprendere che un membro di questa commissione che ha delle posizioni ecologiste possa chiedere la completa abolizione del sistema ETS per proporre una carbon tax dove sia calcolato il contenuto di carbonio presente nei prodotti che vengono consumati ovunque essi siano prodotti. Non sarebbe sicuramente una misura protezionistica ma permetterebbe alle industrie europee di giocare alla pari sul mercato ormai globalizzato evitando che possano entrare prodotti all'estero sul nostro territorio andando a inficiare la redditività e la concorrenza delle nostre imprese europee. Lavorerò insieme a un centro di ricerca italiano, l'Enea, che sta già progettando una proposta di tassazione di questo tipo e mi auguro di poterla incontrare presto per poterne discutere. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.